Il mio Spazio Live 2009. L'Apple Games di Paolo Congiu, insieme al Comune, alla Proloco e alla Consulta Giovanile di Milis, l'Associazione Contro Luce, il Comune e la Proloco di Bonarcado, organizzano un evento dedicato al mondo del web. Le date previste sono il 17, il 18 e il 19 luglio, tra i due paesi interessati. Le tre giornate saranno interamente orientate alla promozione di qualsiasi forma d'arte, quindi cantare, recitare, suonare e via dicendo. È il secondo anno che questa rassegna sperimentale trova spazio in piccoli comuni, infatti è nata nell'agosto del 2008. La direzione artistica sarà curata da Paolo Congiu. Quest'anno è stato coinvolto anche il Comune di Bonarcado e l'associazione che si occupa del Festival internazionale Occhio al Corto. L'espressione Il mio Spazio Live sta ad indicare tutte le azioni che quotidianamente si svolgono sul web e per un giorno vengono realizzate in gruppo e soprattutto sotto gli occhi di chi non è abituato ad utilizzare gli strumenti informatici. L'intento è di divulgare un nuovo modo di comunicare e di unire persone di interessi diversi che però sono disposte alla condivisione con gli altri. Bonarcado ospiterà la prima giornata il 17 luglio in concomitanza con il Festival Cinematografico. Questa sarà l'occasione per gli artisti di esporre le loro opere nell'anfiteatro cittadino. Invece sabato 18 la giornata avrà inizio alle 10 di mattina con la degustazione di prodotti tipici e l'intrattenimento con l'hip hop, il latinoamericano ed i cori polifonici. A metà mattina si parlerà di social network in un convegno a cui parteciperà Marco Camboni, creatore del primo portale Sardo. Domenica 19 la manifestazione si sposterà a Milis dove sempre alle 10 di mattina comincerà una giornata all'insegna della musica rock, della proiezione di video e del divertimento fino a sera. Chi volesse esibirsi durante la manifestazione potrà inviare la propria adesione entro il 15 luglio. Le informazioni si possono trovare all'indirizzo www.myspace.com.